Il Tour de Force è continuo a Pescara, di scena a Pontedera, partita di recupero della quattordicesima giornata in programma martedì prossimo alle 18.30. Floriani non preoccupa, dopo il blitz sul campo dell'Entella il terzino Bianchazzurro ha accusato un affaticamento all'aduttore, ma questa mattina nel ritiro di Tirrenia, a cui si riferiscono le immagini, si è allenato a parte, resta comunque in dubbio. In caso di Forfè, con l'assenza di Pierno per squalifica, diffidato e ammonito in panchina nel corso della gara di Chiavari, Perlacani sarà spostato nel ruolo di terzino destro con il rientro dal primo minuto nel cuore della difesa di Riccardo Brosco. A centrocampo prenota la maglia Simone Franchini, che ieri subentrando a De Marco ha realizzato al 91esimo il gol vittoria. In mediana altre sì, verosimile. Il ritorno tra i titolari di Tugnov in cabina di regia verrà confermato o squizzato. In attacco non sono previsti i cambi. Zeman sembra infatti orientato a dare fiducia al tridente Merola Cuppone a Cornero. Nel Ponte d'Era, che ieri ha espugnato Ancona, riscattando l'immeritata sconfietta casalinga patita nel turno precedente con l'Entella, indisponibili l'esperto portiere Stan Campiano, rottura del crociato Cerretti e Provenzano. Sistema di gioco 3-4-2-1. Squadra giovane, dinamica, con una chiara identità e una buona organizzazione difensiva. Ben sei i clichet nelle ultime otto gare. In classifica i toscani, allenati da Max Canzi, ex allenatore dell'Olbia, occupano la settima posizione assieme alla Re Canatese, con 23 punti. Uno in meno dei Benchazzurri. Due gli ex, da una parte Milani, 71 presenze con la maglia del Ponte d'Era e 6 gol. Dall'altra il 32enne attaccante Francesco Nicastro, che col Pescara, allenatore Zeman, ha giocato una sola partita in Coppa Italia sei anni fa, agosto 2017, contro la Triestina. Quindi la cessione al Foggia nell'ultimo giorno del mercato estivo.